L'operazione testimonia quanto questo comune sia vicino alle famiglie e sensibile a quelli che sono i bisogni delle famiglie, dei bambini di una fascia particolare 0-6 anni. L'epoca del Covid aveva un po' modificato quelle che sono le abitudini non solo delle famiglie ma anche le abitudini quotidiane di sviluppo della lezione e della scuola all'interno sia delle scuole dell'infanzia che dei nidi. Quest'anno l'operazione che abbiamo messo in campo è davvero straordinaria. Già poche settimane fa abbiamo avuto la forza di aprire un nido in più capace di ospitare e di accogliere 50 bambini della fascia 0-3, fascia che riceve oltre il contributo IMSS anche la possibilità quindi di frequentare le nostre scuole con un numero maggiore di ricettività e con quella che è l'operazione di questa mattina anche un contributo per quella che è una fascia che non è mai stata come posso dire interessata dal contributo già messo in campo per la fascia 6-14 da diversi anni e quindi sarà un contributo per frequentare le scuole paritarie convenzionate con i servizi educativi e tutti i centri estivi che si sono registrati regolarmente e quindi accreditati al servizio. È un'operazione straordinaria perché in questo momento di spending review, di grande incertezza, di aumento di quelli che sono i costi anche delle materie prime un comune che investe il proprio bilancio in quelli che sono i servizi educativi e un aiuto concreto alle famiglie colpite dalla crisi economica e non solo è sicuramente una risposta tangibile e reale per tutte le famiglie della città. Pensiamo che con il contributo possa essere destinato a circa 200-250 bambini che rappresentano la quasi totalità delle richieste che sono arrivate fino a oggi ai nostri uffici. La graduatoria per i servizi estivi di frequentazione delle nostre scuole sarà disponibile alla fine di questa settimana contemporaneamente verrà aperta la pagina con la possibilità online chiaramente di richiedere il contributo per la fascia 3.6. Le fasce di reddito che possono fare richiesta sono le fasce fino a 15.000 euro, una cifra pensata perché l'ISE di riferimento quindi di quest'anno si riferisce in realtà all'ISE del 2020, un anno molto particolare in cui anche le famiglie hanno vissuto situazioni economiche molto complicate e che è frutto anche di un'analisi di quello che è la totalità delle famiglie della nostra città che hanno già presentato l'ISE magari per frequentare altri servizi sempre educativi e quindi abbiamo monitorato, controllato e risposto davvero a un'esigenza reale delle famiglie. È un'operazione che però pensate di promuovere anche in futuro, non solamente nel 2022? Sì, è un'operazione che ci piacerebbe poter consolidare. Io penso che oltre alla straordinarietà, come dicevo, dell'operazione è anche un'operazione virtuosa perché insieme al contributo si dà la possibilità e si incentiva anche il lavoro di tanti operatori della città che lavorano durante i mesi estivi in quelli che sono poi tutti i servizi destinati alla prima infanzia e anche alle fasce di età più alte.